vi chiedo scusa ho avuto un problema tecnico non so come sia potuto succedere ma anche se io avevo chiuso zello si è magicamente riaperto ed è arrivato un messaggio e l'arrivo di questo messaggio ha fatto cadere la connessione questa volta non perché fosse arrivata a 15 minuti ma semplicemente ma semplicemente perché perché appunto l'arrivo di un messaggio di zello ha fatto cadere la connessione come succede anche nel momento in cui arriva una telefonata ecco perché ovviamente prima di andare in diretta devio le chiamate proprio per evitare questo problema adesso dite che non si vede niente aspetto qualche secondo per capire se perché ero caduto o se veramente salvo ci piace pensavamo che entrassi nello staff della cosa dice ivano perrucci allora lo staff della cosa è una definizione un po generica in un certo senso facciamo noi di salvo 5.0 facciamo parte dello staff della cosa perché come avrete notato se ci seguite il mercoledì sera le nostre trasmissioni serali appunto molto spesso vengono replicate sulla cosa quindi facciamo parte dello staff in un certo senso così come tanti altri possono far parte perché la cosa alla fine è il canale ufficiale del blog di beppe grillo ed è un grande contenitore quindi molti possono partecipare possono contribuire possono mandare dei dei contenuti e noi siamo fra questi molti quindi praticamente siamo io ritengo di poter dire di far parte dello staff ovviamente appunto come freelance un po come i giornalisti che ok abbiamo di nuovo perso il sincronismo fra audio e video pazienza andiamo avanti lo stesso quindi stavo dicendo un po come i giornalisti freelance che fanno degli articoli in modo indipendente li preparano e li mandano ai giornali e i giornali se decidono li pubblicano ecco diciamo che questo è il rapporto che c'è fra noi e la cosa marco brancozzi dice si vede ma sei asincrono pazienza non vorrei richiudere perché visto ci sono tutti i tempi di ritardo chiudere ritornare genera più fastidio che altro va bene no zello in questo momento è disattivato quindi non dovrebbe succhiare banda credo che siano più che altro come scrive correttamente luigi conti problemi stream infatti immagino che sia proprio così va bene comunque io in definitiva i due argomenti che o che avevo intenzione di trattare in questo mi scappa la diretta di oggi anzi vorrei dire i due argomenti che mi hanno spinto a fare il mi scappa la diretta nonostante l'ora tarda li ho trattati appunto ho parlato di questa lettera della mafia a insomma che minaccia di matteo ma non solo lui e ho parlato del appunto del discorso del monte paschi di siena che praticamente è sparito nessuno più ne parla salvo quando passerà su stream la cosa a non lo so non credo che succederà caro antonio perché la cosa ha una piattaforma ben definita su youtube credo che rimarrà lì laura freddi scrive che si vede benissimo mi fa molto piacere beh d'altronde in questo momento io ho circa 2 megabit in upload quindi la qualità dovrebbe essere decente insomma va bene che ci sono tre computer collegati fra cui quello dei miei figli che non so che cosa stanno combinando probabilmente mi succhiano un po di banda però credo che almeno 800 900 k in upload dovrebbero rimanermi allora giuseppe massa dice salvo nel se pd e pdl fanno governo pensi che noi saremo fuori o possiamo lottare con i nostri punti ma scherzi un'opposizione forte con 163 parlamentari ma tu non hai idea di quello che può fare essendo fuori dal governo questo è il motivo per cui non ci preoccupiamo tanto del fatto di fare un governo alleandoci quindi depotenziandoci mischiandoci quindi sporcandoci è ovvio che noi o andiamo al governo da soli perché gli italiani ci danno la forza di andare al governo non è necessario il 100 per cento basta anche il 30 per cento il 31 il 32 per cento oppure stiamo all'opposizione e ti posso garantire che nel momento in cui si comincia a lavorare perché il problema è che le camere ancora non stanno lavorando perché le commissioni non si riuniscono quindi questo è il vero problema ma questo i partiti non interessa loro dicono che noi siamo monelli siamo poco responsabili perché non accoggiamo nessun governo fatto dei partiti però nessuno invece si vuole rendere conto che potremmo già fare tantissime cose attivando le commissioni e mandando avanti il lavoro alla camera ale lau scrive salvo ci sarai in friuli per il mini tsunami di beppe guardare potrebbe anche succedere non te lo so dire ancora in questo momento manca ancora un po di tempo vedremo vedremo probabilmente sì però non sono in grado di confermartolo per il momento poi vediamo che cosa dire parlano di scorta d'igo sabbeppe che nessuno si toccarlo qui scatta la rivoluzione allora caro giano 67 io dico che nel momento in cui il popolo italiano una buona parte di esso si stringe intorno al movimento 5 stelle non ci tocca nessuno questo è il punto perché la mafia e chi opera insieme alla mafia sa bene che non serve fare un atto del genere verso beppe o verso qualunque altro esponente del movimento 5 stelle non porterebbe nessun risultato buono per loro anzi anzi succederebbe veramente un disastro verrebbero annientati nel giro di poco perché a quel punto veramente una buona parte degli 8 milioni 700 mila italiani andrebbero in giro con i forconi quindi credo proprio che non ci sia questo questo rischio fino a quando saremo tutti uniti purtroppo i attentati ai danni di falcone borsellino sono stati possibili solo perché queste persone sono state lasciate da sole questo è il problema va bene allora carissimi io questo punto o gianluca salvo cosa pensi di un canale satellitare che amplifica la cosa e salvo 5.0 è impossibile carissimo gianluca no impossibile nella vita non c'è nulla mi chiedo quale possa essere l'utilità fra l'altro proprio ricevuto una mail adesso da parte di uno dei nostri amici di zello che mi diceva che ci sarebbe qualcuno che potrebbe farci fare delle prove il problema allora per quanto riguarda la cosa io non lo so dovreste parlare con la cosa perché io non ho nessun potere decisionale sulla cosa per quanto riguarda salvo 5.0 se ci offrissero un canale satellitare gratuitamente potremmo anche fare delle prove il mio dubbio è che probabilmente nessuno andrebbe a guardare questo canale perché come dicevo ieri nella chat di zello dicevo per per essere visti i nostri spettatori devono essere curiosi allora se già siamo arrivati al 25.5 per cento solo con la rete e con i comizi in piazza vuol dire che un quarto degli elettori hanno avuto la curiosità di andare a informarsi mentre ci sono altri tre quarti che non hanno avuto questa curiosità allora anche se noi avessimo avessimo un canale satellitare non è detto che la gente andrebbe su quel canale perché poi parliamoci chiaro se noi prendiamo rai 1 rai 2 rai 3 rete 4 canale 5 italia 1 e la 7 credo che questi sette canali alla fine coprono circa il 90 forse 95 per cento del totale che si vede in televisione vabbè poi c'è sky in effetti però diciamo non lo so magari non voglio buttare numeri a casaccio visto che non ho fatto uno studio però secondo me insomma la stragrande maggioranza degli italiani guardano questi sette canali più questi sette canali qui i sette insomma classici poi vabbè c'è chi guarda sky eccetera ecco se noi avessimo un canale anonimo sul satellite io credo che ci guarderebbero veramente pochissime persone cioè se in una trasmissione di salvo 5.0 ci guardano mille persone in diretta e altre 5.000 6.000 indifferita credo che avendo un canale satellitare non aumenterebbe di molto la penetrazione delle cose che abbiamo da dire verso coloro che non sono curiosi sì avremmo magari un po di curiosi che non hanno internet e ci guardano via satellite ma ne dubito ma sicuramente tutti quelli non curiosi che continuano a guardare il mainstream rai 1 rai 2 rai 3 eccetera eccetera continueranno a essere non curiosi e quindi per me è quasi inutile fare un esperimento del genere ci ho detto dico che se vogliamo fare questo esperimento se c'è qualcuno che ci offre un canale satellitare gratuito sottolineo potremmo anche fare questo esperimento e magari potremmo scoprire che io mi sbagli c'è un un signore che si chiama cazzo solitario vabbè complimenti per la scelta del nick che dice ma c'è un modo per chattare con salvo allora c'è un modo per chattare con tutta la comunità legata a salvo 5.0 si trova su zello ok zello prova a installarti l'applicazione e in quel modo puoi chattare con tutta la comunità di salvo 5.0 ogni tanto ci sono anch'io sul canale ma ovviamente non sempre ogni tanto ci sono e capita anche di di scambiare due chiacchiere con chi è su quel canale bene se giustino dice che matteo immagino parlasse di matteo ponzano diceva che si può andare su un canale digitale non quello satellitare bene se l'ha detto allora ecco la risposta alla domanda di chi la poneva prima ecco mi piace quello che scrive lauri tesserin mi piace tantissimo tanto la tv sparirà tra qualche anno avremo solo schermi pc sono assolutamente d'accordo con lauri tesserin al cento per cento e io questa cosa l'ho già detta nel 2010 a marzo mi pare prima di entrare all'evento rai per una notte di santoro a bologna paladozza quindi non so ancora quanto ci vorrà ma succederà molto presto io già vedo che i 16 anni 17 anni insomma i ragazzi della nuova generazione guardano pochissima televisione guardano quello che a loro interessa su youtube va bene o ecco folgore salvo ti aspetto presto caro spero tu venga presto ma sì prima o poi verrò a roma è assolutamente l'ho detto che magari un fine settimana così farò qualche giorno di vacanza e così abbraccerò un po di parlamentari e un po di amici romani fra cui tu sicuramente caro alessandro va bene carissimi amici io vi saluto alla fine dopo i 15 minuti dove ho detto qualcosa relativa alle notizie che mi hanno colpito questi altri sono stati solamente un intrattenimento reciproco ho letto un po di commenti ho risposto e ci siamo tenuti in compagnia io vi saluto vi abbraccio vi auguro una buona domenica buon fine sabato sono le 21 e 13 quindi adesso vado a pensare a cosa cenare a cosa mangiare stasera a cena che cosa dire niente un abbraccio ci vediamo domani non so dirvi a che ora farò il mi scappa la diretta ma se andate su zello lo saprete con qualche minuto di anticipo e magari oggi ecco poco fa mio figlio federico che era qui con me mi diceva ma perché non avverti tutti con facebook e con twitter ha ragione fra l'altro spesso l'ho fatto in passato di mandare un tweet che poi viene automaticamente replicato anche su facebook per dire fra poco mi scappa la diretta oggi non ci ho pensato e in effetti è stato un errore va bene ragazzi vi saluto un abbraccio a tutti grazie ci vediamo presto ciao